Il pezzo l'ho scritto molto tempo fa, è uno dei primi pezzi che ho scritto, probabilmente facevo ancora le medie. Ho presentato il pezzo al corso di Rodini, è piaciuto, quindi non è stato mangiato più di tanto. Che figliissimo! Abbiamo mixato la parte elettronica con la parte un po' più acustica, dalla batteria, abbiamo unito le parte anche con la chitarra elettrica, adesso stiamo alli finando i volumi. È un pezzo alternativo, elettronico, è la direzione giusta. Il pezzo è un misto comunque di musica pop, fusa all'elettronica, interessante, non è diciamo scontato. Siamo arrivati in studio e il produttore mi ha dato qualche dritta, in base al lavoro che avevo svolto precedentemente nel laboratorio di Andrea Rodini e mi ha dato qualche suggerimento, quindi abbiamo rivisto quelle parti, diciamo che abbiamo tirato, abbiamo giocato un po' di più sull'essenziato, quindi siamo andati a scremare. Io sono il chitarrista del pezzo di Marta, per il crea musica. La prima parte di chitarra che ho suonato è quasi una parte funky, sulla strofa, però in realtà poi il pezzo diventa tutto un altro genere. Ho usato una strato, tender, ampli, forse il compressore, al massimo. La seconda parte è power cord, semplicissima. Tivo in cuffia, già l'arrangiamento praticamente finito, cioè l'unica cosa che mancava dalla voce. Ed è stata la prima volta che ho portato un pezzo fino in fondo, fino in uno studio e quindi il processo creativo dall'inizio alla fine. Sono molto soddisfatta di quello che hanno fatto i ragazzi.